Salve cari amiche ed amici che mi seguite qui il vostro San Ten Chan questa mattina volevo fare un video facendo colazione ma ho avuto solo tempo di fare una preview della colazione adesso sono stato tutta la mattina fuori casa e quindi c'è il tempo di mandarvi un saluto grazie di seguirmi e di continuare a seguirmi e soprattutto se potete di condividere i miei video affinché anche altri mi possano seguire grazie per commentare i miei video e mi raccomando condivideteli anche agli altri che conoscete affinché anche altri possano commentare i miei video quindi qua saluto e chiudo consigli darò grande formato al video che caricherò in preview vi consiglierò dei video lasciate commentare qui sotto condividete perché voglio sapere non solo i vostri giudizio su questo mio video e su tutti gli altri ma anche il giudizio dei vostri amici parenti familiari vicini di casa compagni di lavoro compagni di studio compagni di ginnastica e mogli figli i padri allora grazie di cuore beh volevo filmarmi pranzando anche non so se lo farò ma forse no ma di sicuro questo video lo caricherò in preview dopo pranzo o forse nel tardo pomeriggio o forse di sera chi lo sa quando nel 2016 o 2017 c'è stata l'opportunità l'opportunità di fare le live con il cellulare io ne ho subito approfittato adesso però siccome approfittato molto del mio cellulare per fare le dirette che ogni volta si surriscalda approfitto della preview in questo modo mi sto filmando con il nokia asha 302 e che è quello che porto fuori casa e poi carico la preview in modo che si vede come una diretta che io posso chattare con gli amici e le persone che mi guardano però non è una diretta e io non consumo la batteria del cellulare che ciò da natale 2015 anche prima a fare le dirette perché già ormai c'ha tre anni chissà quanto mi durerà ancora poi non me ne potrò comprare uno nuovo a meno che non riesca a monetizzare di nuovo il mio canale di youtube youtube mi paghi allora grazie di seguirmi e ciao in bocca al lupo e mi raccomando aiutatemi condividete i miei video commentateli dategli like o dislike se non vi piacciono e fate in modo che anche altri possano commentarli e condividerli anche loro ciao dal vostro senten gian ciao